Solo la Dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe C berlina. E' stato stroppato al gelo della strada e accompagnato al Rubilli dove ha trascorso le ultime due notti. Seggio un anno fa dormiva su un giaciglio sudi, cioè freddo, in balia del degrado nel mercatone. Con lui a dividere gli stenti, Angelo, che malato, non riuscì a sfuggire agli artigli del gelo e agli occhi chiusi dell'indifferenza. Con la foto del suo amico scompasso sempre con sé, è pronto a mostrarla che si prende cura di lui. Sergio, dopo la tragedia che l'ha scioccato, invita gli altri senza tetto a ripararsi dal freddo, rivolgendosi alle strutture di accoglienza allestite in città. Sergio ha avuto paura del freddo, ricordiamo che l'anno scorso purtroppo ha assistito alla morte di Angelo alla mercatone per il gelo che c'era in quella struttura. Si sono preoccupati tutti. Le strutture sono aperte come il Rubilli, anche la misericordia, la mensa dei poveri. L'ispettore dei vici si è messo a disposizione veramente sul vero... Perché tu dove stavi dormendo? Stavo dormendo a Mercogliano, ma lui mi ha venuto a cercare e ha detto Sergio, devi venire a Mercogliano, non sarò con me, e hai perso il saluto. Se c'era questo tipo di attenzione l'anno scorso ovviamente si poteva evitare una tragedia. Lo dovevano fare gli anni passati. Adesso Sergio dove stai dormendo? A Rubilli, a Rubilli. Cioè è una struttura molto organizzata. Invita anche gli altri senza tetto, gli altri amici tuoi che non sanno dove ripararsi a venire con te. Sto mettendo pubblicità per farli venire là, perché purtroppo è una struttura abbastanza buona. Anche questa notte andrà a Rubilli? Sì, sì. Non potevi stare al freddo? No, a parte ho fatto perché oltre tutto che l'agenda si è preoccupata, i vicili, è stato il maresciallo dei vicili che mi ha portato là. È venuto lui da te? Sì, è venuto là nel parcheggio e si è messo a disposizione. Come si chiama il maresciallo? Mimmo, però il cognome... Ringraziamo Mimmo. Mimmo, 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 grazie. Grazie Mimmo anche per noi, grazie.